salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi ci troviamo ad albaredo san marco in valtellina destinazione rifugio alpe piazza poi da lì sicuramente location spettacolare per far volare qualche drone già da qui panorama pazzesco guardate bellissimo comunque la valtellina tanta tanta roba quindi ragazzi adesso senza perdere tempo passeggiata e raggiungiamo rifugio alpe piazza grazie a tutti 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 grazie a tutti